Il tema del rapporto fra diplomazia e verità si inquadra in quello più ampio del rapporto fra politica e verità e se vogliamo è un tema che possiamo affrontare da un punto di vista etico e speculativo e teoretico, vale a dire chiedendoci se la verità sia un valore assoluto trascendente, quella famosa verità che ci rende liberi come ci ricorda San Giovanni, oppure se la verità sia un semplice strumento di lavoro per il diplomatico, quindi sia una sorta di optional relativizzabile perché comunque subordinata a un fine assoluto e il fine assoluto per il diplomatico è la lealtà alle sue istituzioni, poi l'individuazione e il perseguimento dell'interesse nazionale.